Un'inedita serie che ci mostra quali siano i comportamenti corretti per garantire l'igiene e la sicurezza della selvaggina cacciata. La possibilità che il cacciatore possa vendere le carne di selvaggina o commercializzarle danno un ruolo sociale anche molto importante al cacciatore. La caccia è un anello di una lunga catena di biodiversità e di equilibrio ambientale. Il cacciatore formato dal 9 novembre ogni lunedì alle 21 in esclusiva su CacciaTV. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS